come state spero bene allora nuovo video che crescio anche oggi dunque sono stata in palestra e ho fatto un po' di esercizi poi questi esercizi erano un po pesantucci ma mi sono piaciute ci ho preso gusto devo dire la verità ci ho preso gusto e mi piacciono davvero tanto questi esercizi nutrivoli dico tanto sono sempre gli stessi però mi piacciono davvero tanto e adoro adoro si fa per dire perché sono pesanti ma ne vale la pena dai poi cos'altro dirvi niente alla fine sono tornata a casa poi ho mangiato qualcosina e quando riuscire a comprare una bella doccia perché veramente sono veramente stanca e voglierei una bella doccia rigenerante come suol dire e poi cos'altro devo dirvi niente sono contenta che finalmente sto ricominciando la palestra e wow che bello non vedevo l'ora già ah un'altra cosa ho cambiato le unghiette eccole qua queste sono le mie belle unghie ma appena posso le dispo perché mi piacciono di più parte come le faccio io ma vabbè ho voluto fare un'opzione una cosa diversa dal solito e queste sono le unghie prima le avevo di un colore molto più bello ma anche questo non mi dispiace per niente vedete che belle belline vero mi piacciono fatemi sapere qua sotto questo video e niente poi ho dovuto mettere questa volta è arrivata una nuova ospite che non so se si vede no forse no da quella parte qui si di cui c'è la televisione quella c'era in sala l'ho spostata di qua ora è spenta perché sennò se faccio il video può interloquire come si può dire può fare interferenza col video e non mi sta interloquire non si può sentire però è così fa interferenza col video e magari se c'è qualche musica che non va bene mi fa copyright e non è il caso comunque va bene lo stesso la televisione spenta è un'opzione per fare qualche video e approfittare di fare qualche video in più in più non si può perché sì si potrebbe ma dopo comincio a sparlare a dire cose senza senso quindi vabbè che io non dico mai cose sensate ma almeno come ho sentito in alcuni commenti dire che io offenderai qualcuno quando non è vero io non mi interessa offendere nessuno se qualcuno ha qualcosa da dire di anomalo è pregato o pregata di tacere se lo so anche questo video non va bene ma se non vi piace un video siete pregati di non guardarlo se invece vi piace ecco allora senti benvenuti o i benvenuti se non parlo di voi iscritti al mio canale parlo di qualche cosa che non voglio fare non voglio darle sarò che haters non lo so mi ha scritto che io oltre che non mi so truccare prima cosa oltre quella cosa lì mi ha scritto anche che io non so parlare vabbè quello si sa che non so parlare ma a me non me ne interessa niente e poi seconda cosa che offrendo mezzo mondo ma come ti permetti ma che sei tu vabbè cane che abbaia non fateci caso è sempre nel mio video che abbaia ma è cane di famiglia quindi vabbè è lo stesso e fa che troppo simpatia mio cane anzi il nostro cane e cos'altro dire oltre a quel commento che ho ricevuto poi me la son presa male però anche se non mi so truccare che me la frega mi trucco per me stessa non per insegnare qualcosa a voi ribadisco ci tengo a dire che non mi interessa insegnare nulla nessuno del trucco se voi volete che io vi insegni io non sono nessuno per insegnare ve lo so già bene ma se voi dovete dire vabbè mi taccio che è meglio prima che combino altri disastri però è così mi so truccare non mi so truccare quella sono quella rimango non mi posso permettere come dire scuole di trucco ma sto imparando a diverse ragazze oltre che ho imparato già anche alcune cose da Clio da quando la seguivo dal 2013 mi pare mi sa di sì perché io prima avevo un altro canale youtube che era intitolato Melania Vaxdale o qualcosa del genere sì mi sa che era intitolato così con il nome d'arte anche mio per nome Melania Vaxdale e mio cognome americano ovviamente e ho fatto tanti video semi cap che ASMR l'ho aperto nel 24 dicembre 2013 quindi non vedo perché mi devo rompere le scatoline con gente che non mi interessa proprio di altre sì lo so sempre degli haters non devo darle retta perché le do visibilità ma è così che dire oggi sono vestita così sempre come in altri video ma perché fa un freddo è arrivato purtroppo il freddo c'è anche piace il freddo ma a me il freddo mi paralizza non dico male però boh non mi trovo tanto a mio agio col freddo boh vabbè niente poi cos'altro volevo dirvi niente semplicemente che sto seguendo tanti di voi youtuber sto seguendo tanti canali anche di trasmissione televisive non faccio nomi perché tutte le volte che faccio nomi poi qualcuno mi viene a dire eh ma tu qua ma tu là insomma un sacco di fesseria che non stanno nel cielo là in terra quindi evito di fare nomi di trasmissioni perché non perché non piacciono agli altri quando lo dico ma non è solo per quello forse per quello non ne ho idea ma soprattutto perché voglio evitare qui anche qua il copyright voglio proprio essere più trasparente possibile ma senza fare nomi di trasmissione già fatto nome di trasmissione mi è finito qua sotto il va bene la descrizione del video si vedeva cosa avevo nominato si se si capiva si percepiva cosa avevo nominato mi riferisco a un video fatto giorni fa nei giorni scorsi e no non mi va proprio si mi fa piacere guardare alcuni talk show ma preferisco non guardarne cioè non non guardarne scusate preferisco non fare nomi perché voglio evitare di sì voglio evitare di avere qualche brutta sorpresa quindi anche no grazie già sì oggi mi vedete struccata non truccata scusate ho sbagliato anche qui ma vabbè mi vedete struccata perché era in palestra quando sono andata in palestra ho deciso che o mi trucco poco oppure a zero c'è a nulla di truccarmi ovvero non mi trucco per niente facciamo prima dire le cose come stanno non mi trucco per niente e fa e passa la paura tutto lì poi non è vero che non discreterò un verbo esatto io penso prima di dire le cose anche se a volte è difficile per l'essere umano dire qualcosa di sbagliato o offendere le persone che io non voglio offendere ho solo detto una cosa che io in quel video lì non sto a ripetere cosiddetto perché poi mi viene ribadito non fare così io non ho fatto nulla di che non sono una persona tanto per la quale ma non mi si può dire che sono scema perché non sono scema e neanche stupida quindi non mi prendete per quella che non mi interessa essere grazie si lascerò un video polemica poi sarà un video blog che chi dice o pigliatelo come volete ma quando sono nevrotica nervosa ve ne dico di ogni perché questo è il mio video segreto non su youtube è vero che non si può pagare tutti di più ma se uno vuole parlare delle proprie cose dei propri fastidi ti dico in faccia voi lo dice in faccia le cose allora piccola preamboli non era riferito agli iscritti è riferito a chi sempre ha da ridire lo so ahimè e anche ai voi perché anche voi avrete haters ma io non so perché ma ogni anno mi ritrovo una a rompermi le balls proprio ben rotte e quindi sì sono nevrotica sono nervosa sono permalosa non voglio dire nulla non è vero potete dirmi o poi però dico anche io la mia perché se voi dite ah ma tu non sai coniugare un verbo con un altro ah ma tu non sai truccarti ah ma tu offendi ah ma tu qua ma tu là adesso anche basta dai che due balls ho capito va bene certe cose non sono ferrata ma potrei anche essere un pizzichino ferrata neanche un po non è vero perché mi arrangio come posso mi arrangio come posso il resto ragazze mi piace ballare cantare anche se voglio cantare canto poco perché sti cavoli poi tutte le volte mi passano la voglia di cantare in pubblico qualche volta prenderò la faccia di chi mi odia su youtube il coraggio e canterò su youtube vedete che qua ci sto pensando cosa dire perché non voglio dare troppo sospetto o altre aditi a dire che io dico non so parlare o cosa no è vero non so proprio tanto parlare ma con questo volete linciare perché io non so parlare raga e vivete la vostra vita per piacere dai e che diamine siamo nel 2024 quasi nel 2025 e dovete ancora no comment guardate no comment già e vi dicevo allora dunque tornando al termine della polemica anzi del video del video tutto inerente al video vedete che faccio una fatica infanto mi arrabbio che non ve ne dico ho la tuta della palestra perché sono ancora in tuta non so se si capisce ma questa è la tuta della palestra ebbene sì di là c'ho il mio giubbotto non so se si intravede da questa parte ma ho il giubbotto e di là a fianco a fianco al giubbino di Zara c'ho la mia borsa della palestra che si dovrebbe entrare a vedere sì questa qua bluette blu come si può dire questa qua lo so che sono un po' una che non so cosa vuole dire ma non è così io so cosa dire e niente cos'altro volevo dirvi mi ho fatto un cartellone di ciò che devo svolgere in tutte le mie giornate anzi me l'ha fatta la mia amica educatrice e ne sono grata a lei tanto grata cioè e nulla poi cos'altro dirvi che devo ancora utilizzare tutti i prodotti che mi ha regalato madrina da questa parte vi faccio vedere un attimo mi riferisco a questa crema a mani questa crema a mani qua che è tutta a pasticcino cremo allora hand cream duo questo qua che è fantastica adoro troppo 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 carina veramente fantastica già e poi niente come si dice la mousse per fare la doppia detersione con la crema con la crema viso e la maschera viso al cocco tutta al cocco questo è aloe vera mi pare che sia e burro di carité sì olio di cocco burro di carité gel di aloe vera sì anche l'altra parte ah ecco olio di cocco al burro di carité al gel di aloe vera e proprietà sulle emolienti 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 nitive ok d'accordo benissimo ve li faccio rivedere sono qua dentro non so se si notano ecco qua e sono molto molto deliziose non l'ho ancora aperte ma scommetto che hanno un profumo che non ce ne da nessuna parte allora non faccio vedere altro perché sennò non finiamo più però se vi fa piacere fatemi ditemi la vostra fatemi una domanda se le proverò o meno ancora non mi sa tanto già vi rispondo perché ho da finire una crema che c'ho di là dall'altra parte cioè c'ho una crema della Roche-Posay oh scusa ti ho dato un calcio al telefonino e quindi devo terminare guardare la Roche-Posay alle mani ok ok ciao ragazze a presto e al prossimo video ciao voglio bene spollicciate commentate fatemi sapere con un commento che ne pensate di questo video un po' polemicoso o polemicuccio come lo volete dire voi e lui ci si becca un prossimo video ciao ah fatemi sentire come si trova l'audio se si si sente bene l'audio o meno ciao unico zombie apocalypse ciao 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 ciao